vediamo ora le varie modalità di inserimento di un cerchio fornite da AutoCAD qui abbiamo degli esempi che saranno collegati con centro e raggio per due punti quindi le varie possibilità di inserimento relative anche al disegno che abbiamo tangente tangente centro e diametro per tre punti e tangente 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 vediamo l'applicazione concreta dell'esercizio vediamo il primo centro e raggio quindi disegna cerchio centro e raggio notare che abbiamo già attivato il filtro di snap dove uno dei filtri di snap ad oggetto è la fine o l'intersezione come si può vedere quindi il centro sarà questo e il raggio è questo per due punti disegna cerchio due punti i due punti ovviamente corrispondono a diagonale vediamo per tangente tangente raggio quindi cerchio tangente tangente raggio quindi prima tangenza seconda tangenza raggio lo devo specificare e questo è il mio raggio vediamo il terzo esempio di centro quindi il quarto esercizio usiamo però ora l'icona cerchio nella barra degli strumenti di disegno quindi selezioniamo il cerchio come si può vedere non viene presentato il menu a tendina ma dobbiamo leggere nella riga del comando quindi il sistema mi chiede di specificare tre punti due punti ttr in questo momento va bene centro del cerchio quindi shift destro del mouse punto medio del segamento il punto serve per visualizzare meglio il centro però viene scelto come filtro e posso indicare il raggio oppure con D indico D diametro e quindi il diametro di venti specificato vediamo quello per tre punti quindi sempre icona cerchio per tre punti quindi specifico 3p digito 3p da tastiera quindi primo punto secondo punto e terzo punto quindi per questi punti passeranno i i punti della cerchio quindi passerà il cerchio tangente tangente e tangente effettivamente non esiste nel menu del fornito dall'icona dobbiamo ricorrere ancora a tangenza quindi disegno menu che è il sesto modo che viene fornito quindi tangente tangente quindi prima tangenza seconda tangenza terza tangenza è chiaro che il raggio viene ricavato dal sistema in automatico grazie a tutti